Devo cliccare the house adesso per giocare Eh si Aspetta venite hopline ancora Aspetta venite hopline ancora Aspetta venite hopline ancora Aspetta venite hopline ancora Aspetta venite hopline guarda Sono bello Che cazzo è quei sono bello Donate in tv con la faccia di nuno arrapata Io non capisco non si può disattivare la voce di discord La nostra No come la disattivo Allora nel senso che tu la disattivi dello streaming Non la sentiamo Ho capito però posso farlo Non si può Come non si può Non ho capito però posso Devo cliccare the house allora Sì Cioè vediamo un po' È iniziale tutta la capo Come tutta la capo Mi avete mentito Aspetta che sto Non è tutto Eh ho messo a stress video Quello è Giusto Cos'è sta cosa? Cos'è? Caricasse Per controllarsi è tutto da capo E ritorna nel garage E vedi in quella stanza Non è tutto da capo Ti ho detto Eh Trust me Eh ma a me non carica Eh ti ci metto un po' a caricare Perché sei esploso Però ce la fai Ah Ok Caricato Perché sei esplosato da capo Perché sento le porte che si ha Sì ok non è cito da capo Che devo fare adesso? Eh cosa vuoi fare? Capiamo la porta del cesso Sennò non serve a niente Ah no Sì Una cosa la posso fare anch'io lo stream No Perché? Perché non avevo un'internet decente Non è già aperto il garage Non è già aperto il cicello lì Ma so l'ho buttato su per me Che devo fare? Tipo Dani come qua? Eh tipo Se vuoi puoi stare nel bosco di notte Andarò un po' in giro A camminare A vedere se succede qualcosa o no Ah e devi controllare anche la posta È presente che davanti al cibo Non l'ho mai controllata io Eh? Non l'ho mai controllata Eh come vabbè controllo ma Dovrò andrò uscire per le lettere E poi esce qualcun mustro No 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 Che è successo? È iniziata È iniziato il coso Madonna Madonna Che cazzo è questo? Ho camminato troppo davanti Per cercare di aprire la... Guarda lo miro fiero che muova E non devi fare il tutorial Che palle Cosa? E lo devo fare adesso? Sopra Eh sì fai il tutorial che durerà mezz'ora E ehm... Ma ero sotto W Oh Bianca Rack U Oh Che Rai, fai il tutorial di merda e... Luca al Frank, devi guardare il Frank E' guarda E' guardato E' guardato Lascio stare, voglio vedere E' guardato, non so se volete vedere qualsiasi E' guardata non sento un cazzo davis oh 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 ah c'è una scala di rive eh certo tu continui a saltare a guardare una cazzo di cane rivela l'hai visto molte risuendo una scala di rivela ah MA E' la ca** fanta Oh no! Oh no! Batterie, bravo! Oh, batterie! Oh, batterie! Oh, batterie! Oh, batterie! Oh, batterie! La discoteca! L'ho fatto! 4-1, 4-4 Non ho neanche scritto tutto! 7-6, 7-8, 2-4, 6, 4... No, 4-1, 4-1 4-1, 4-1! Ok, prendi meglio! Devo prendere tutto! Si! Però per ogni cosa che prendi ti fa la descrizione di mezz'ora! La mia parola! Oh, batterie! Oh, batterie! Sperre di più! Ho! Oh, oh! 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 il bagnino se io ho ottimizzato troppo bene la torca mi fa laggare quale la cosa per terra al l'alberto web è il suo il 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 i fatti del tiro la, devi sbagliare deve fare il tiro al bersaglio oh no il gatto no oh no il gatto no ci sono il cazzo io? mi piace alla tua mira migueli mamma mia affiderei la mia vita a te guarda e la mia vita è sua mamma mia guarda guarda la sensibilità siamo successe qua ragazzi lui non è che spara muovendo il mouse no si muove lui è meglio più easy ho capito perchè successe qua risid non ci sono non ci sono non ci sono e lo so la mia vita è un po' balla non ci sono non ci sono exercise non ci sono mamma mia MAMMA MIA Se Michele è meglio di dire che Alla fine amore al primo livello sono male sono male sono male sono male sono male sono male oh adesso sta diventando professionista guardalo non me la coppa tutti mamma mia ok adesso andiamo alla prossima area per una simulazione puoi prendere un'amore andiamo dai Michele is on fire oh hey what's up Jake it's me Mike you recognize me in all this gear? eh vest, mask, that f*** addio tutorial e mo? che devo fare ritorno alla casa? no devi fare il coso prima perchè? quello dicevi che posso tornare ehm non ho finito e ho finito completamente era meglio no si perchè adesso tornerai lì e ci succederà la stessa cosa e tu volevi farlo sottorare ehm era meglio comunque che dovevo fare? controlla la posta poi bella sta posta quindi qua ci stavano le batterie nel tango comunque cercare comunque cercare di non andare troppo davanti alla nebbia lì va ah si ok ma che devo fare? controlla in casa vai sopra il testo la sopra la che cazzo si chiama beh o nel tec rimaniti da un po' in giro esplora vediti la casa contro l'antini a proposito vabbè le mail quello ormai è lasciato al culo porco il dio porco il dio mica master accendi la bajurli non c'è accendi ma c'è la luce è successo qualcosa ma non ha una luce nel senso questo va nel cesso quello più piccolo esplora in teoria c'è un coso sopra lo sbaglio eh sì ma c'è la luce nel cesso piccolo eh vicino lo specchio no ma sopra non c'è tipo un coso per salire no? eh no quello non si apre ah non si apre no non c'è la luce ah si sta facendo come sono bello come sono bello eh eh ma non c'è il cazzo rispondiamo al telefco basta 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 scusa eh ti ha bloccato lo streaming aspetta eh eh l'ha ripreso mo non c'è riavvio perché sennò non vengono indietro fatto sai che c'è? niente andiamo a buttarlo un attimo torna subito eh questo scatolo mi da fastidio lo vado a buttare eh 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 mo succede qualcosa si invece che lo butti ah guarda eh mi stai sfigando e lo lascio qua fu vediamo un po' che altro c'è da fare altre pulizie andiamo giù oh c'era una bambina cof ho scusato qualcosa ho scusato la bova perché prima c'era un muore poi ok ecco scusate eh ehm a miguelo è riusciuta la tipa alle spalle che? ma quello è classico ma... ah no devi cambiare il fusibile eh o no? no no non devi cambiare il fusibile solo che non accendere luci perché tre ore che salta non se ne accorgi dove è comparsa la tv a proposito dietro quando scende no che si chiude la porta dietro i liquidi ah gli è comparso? non l'ho visto lì andiamo di nuovo ma sono tu ma poi si accende la luce oh devo rispondere al telefono ma perchè non accendi la luce? come si accende? è vero non si accende ascolta vai al puzzo quello dove ti hai buttato ieri ma il puzzo è aperto no è chiuso eh schiaccio lo vedi se ti dico qualcosa no dico solo che era chiuso e vai vai ah si hai presente che ci stanno c'è c'è stato un incrocio no dove tu puoi andare a sinistra dove hai trovato la pala ci sta anche una po' una prendere anche a destra vai dove non si è ancora andato nike in spogli eh vabbè canzo mi è frega della notte vai vai la la brano è ma come va sotto qua eh inchiunati sotto il tronco schiaccia un po' vi dici di fare qualcosa Robert Tull, c'avevo qualcosa Ah, lo trovi nel tetto Che cazzo è sto Robert? Che cazzo è? La cosa, il tagliarizzo? Eh, lì c'era la cesoia Ah, cesoia Adesso devi tornare a casa Però non bagni a fare Perché? Eh, perché se no Ti perdi Eh, mi scoce, va lentissimo Sto cosa Vabbè, non vado a dormire A meno che è più usfizio Oh, ci sono degli impronti Impronti? Ah, è per terra, sì, è entrata Chi è entrata? Eh È lui? Le impronte storti Oh, fammi correre Ah Se n'è andato Madonna È lui? È lui Dove stanno le cesoie? È lui Mi sono cagato sotto Stavolta Che l'hanno fatta Dove stanno le cesoie? Devi andare giù in cucina Davanti al pendolo Si è tutto distorto, basta Oh, sì Mi dà fastidio quel rumore Devi andare al pendolo E ora si vado Eh, ma si vado Aspetta Oh, è lui Era lui Ma comunque era quello il evento, vedi? Era quello il evento che dicevo che Era quello il evento che dicevo che Era quello Quando tornavi da Da colpulsola Mi ha dato le chiavi Mi ha dato Dell'attico Dov'è l'attico? È questo? No È l'attico il tetto Eh, lo so Dove si va dal tetto? Qua Sta una cassettina tipo Eh, cazzo si va nel tetto Da sopra Dove... Eh, dove sei Dove sei Dove vai sempre Dove c'è la sede Roselle Cazzo Oh, ok Cazzo 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 Vedi lì che ci stava Lucina Della Eccola Oh E' da E' da Ma sale Invece di prendere Che sui Ok Adesso puoi andare Dove ci stava quel tronco Caduto Che diceva Io mi vabbè E' a destra C'è a destra Sto laggando No No, no, no Sta piovendo Ah, cosa sto laggando Dai Ti rompi tutto Dai Bagnoppo Bagnoppo Non mi ricordo Sta scena Per cui rossi Ma perché Non mi vengono La dinamica Ma che cazzo Ma ogni cosa Do not enter Questo Quell'altro No, io voglio entrare Tu puoi entrare La miser Dei foghi In front of the house Vabbè Quella nuova Per fare la missione Non ci puoi proprio Andare La Michele Che palla Anche se tu ci entri Usando Cose proibite Tu dice Che Non è ancora Il momento Allora Ciao In teoria Quello lo dovrebbero mettere Nel secondo capito Sì esatto Era perché me l'hai fatto fare Vabbè perché Si l'ho fatto Hai trovato una pagina Tipo tu hai lasciato un casino Di pagina in giro Sì questo mi sa Sì No vabbè mica un casino Sono sopra adesso No c'è un anche nel parco Quando hai preso la palla Non hai preso la pagina Dalla panchina Mi so scordato Mi so scordato Poi dipende quella su Ma la vado a prendere Solo quelle due penso Mancato Perché vuoi Non so se finiranno Nel pozzo pure Eh sì Nel pozzo ce ne stavo Qualcuno mi pare Però non lo so E non si può tornare indietro Se passa Sì sì Può andare Passato al garage Se vuole Tanto che non dovrebbe apparire più angelo Ormai quel livello è completato Allora spero un futtono No da l'azzo sta Non stai andando Ma si fa pure notte Quindi Trigger La cosa è a sinistra È della notte Che cazzo è No 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 È la È il motore No Cibo forse È il cibo Sì è il cibo La stamina Tutta Ah Perché tu se guardi In frigo Ci sta il cibo Che vuoi mangiare Mi scusi Eh muoio se non lo mangio O si addormenta Come sempre Eh Si addormenta O muoio Dai sì Dai sì Vediamo se troviamo Angelo Il mio amico Ah ma la stessa volta Sta fatto qua Si esce un'altra volta Mincazzo Ma dove l'ho lasciata Stavate Non sei sicuro Che l'ho lasciata Eh forse Cioè basta che giri in giro Le vedi chiare Guarda in giro Ci dovrebbero essere Perché Cioè a me mi pare Una forse l'hai lasciato lì Dove c'è la radio Mi sa Non so se c'è la radio Ma la presi presa Mi sa Dove stanno la radio Io si l'ho presa Mi vale Oh Lei sta arrivando Non so se c'è la radio No ho fatto tutto il giro Che è scena sto porco È più canto È più canto Non c'è nulla Allora Vado un attimo la radio Per essere sicuro Che non ho mancato Dove cazzo Stavo la radio Eh non mi ricordo Vabbè Torniamo Eh vabbè è vicino Mi scopo finire Andrò a controllare Tanto c'è lo so Ho già finito la torcia Prendi le batterie nei cassetti Cerca nei cassetti Sì me ne vado Tanto si responano Mi fai Oh che mi ha buttato la palla a terra Bastard Bastard No non volevo aprire questo Devi mangiare un po' comunque Mi chiedo Ogni tanto suona il pianoforte Sempre su tutto Drop Drop Il pianoforte Devo suonare Aspetta Sono venuto il pianoforte Vabbè basta Allora Altro che Beethoven Torna Che cosa Sotto la Sotto Della cartina se si distrugge se si fonde tipo quando c'è il temporale ma glielo dice quando perché alla fine non funziona un cazzo secondo me la cosa più importante che a me spaventa i piedi del coso che si alzano ma quello succedeva nel prologo quando l'ho tolto per favore paura cassa perché non ci accende il caso deve cambiare una data del gas che si trova a destra del garage dove c'è quella porticina di merda è presente come si cambia e in prendere quello che c'era sopra lol dove sta sopra al tetto la che l'hai buttata per terra aiutanti era qualcosa così vabbè muoce qualcuna classica la porta non lo so in realtà no mi chiedono non c'entra il fatto che è possibile possibile casuale più che altro devi trovare è presente quella specie di tutto bianco che trovo in giro in giro in giro a c'è un po' giuro non c'è possibile che c'è era per terra e cerca ma meno che si è spostato ma io mi dico che hai buttato qua e non ha ne paratelo sì ma si è spostato di sicuro prova a cercare nella stanzina vuole in giardino quella dove c'è il tutorial forse lì ma è vero perché si spavano in più oppure in garage no è che sono la batteria garage oh no eccolo qua dai andiamo oh un uccello morto c'è un uccello morto perché ti vuole bene vabbè urla ma non parla nessuno non hai visto la tizia sopra? ti ha camminato sopra la tizia? no lo hai visto non ci hai fatto manco caso i gg vabbè oh cazzo e come si mette sto coso? vado devi scendere giù togliere gitter remoto e ora? devi togliere il coso ecco bravo però devo cambiare il coso dove si cambiava? la tanica dove sta? ah è presente tipo il garage a destra porta di legno a destra no? e dici sta la tanica vicino allo scivolo ah vicino allo scivolo? eh c'ha la porta di legno di merda ah eh quello la tanica salsa quindi la togli e devi cercare la tanica nuova la metti lì e poi puoi accendere il camionetto vabbè possiamo costruire la staccatura? vabbè possiamo costruire la staccatura? vabbè forse per questo è scoppiato tutto vabbè 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 eh 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 camminiamo piano se non mi cago sotto oh si è acceso il gas tipo puoi anche accendere la tv e rimandere a fissarla e potrebbe succedere qualcosa se fosse rimani fermo a fissarla per qualcosa ma master era successo sono un pianoforte in attualità proprio il tipo di tastine vasto si è stato sforzo Ti si sono chiuse le porte in faccia Ciao Ciao Sali su, prova a scrivere tu Ti trovo di qualcosa di interessante? Ah sopra Ma what the fuck? E' più in ritardo su Twitch Eh Twitch si è più in ritardo di YouTube Non so se si possono buttare, prova a buttare la prima scatola Vabbè ma le scatolette piccoline sono inutili Ma c'è una pagina sotto al letto che non è ancora raccolta Ah è vero, è vero, ho visto anche il resto Ah non l'ho vista Credo ma gli oppi Ora dovrei aver finito Il telefono Controlliamo le mail Vieni Port Televisione Oh Ma da fuori un muro, mi da fastidio Comunque la notte rimani sveglio in salotto Non lo aspettiamo Ma che era quel rumore, non ho capito Eh c'è stato un caldo di tensione Guarda che è dietro l'armaglio Oh cazzo, andando di nuovo nella necchia Come no Ma perché sbrilluzzi? Posso farmi un giro sull'altalena? Puoi spingelo Allora, andiamo a buttare l'aspetto Allora Ah quella è la porta che si è richiusa dietro Sì Sì Ma si chiude sempre Si è acceso il Il cariglione Andiamo a spegnere Che ha detto di accedere? Madonna mi è passato la rifiuta Spegniti Spegniti Madonna Madonna Devo andare nel palco Devo andare nel palco Se puoi buscare Te lo puoi buttare Mi serve il film Eh, riapri il frigo Dovebbe ritornare Non c'è Guarda nei cassetti Apri tu Non sto andando Non sto andando No, sto andando qua Così lunga Eh no, Michele non c'è più cibo Devi dormire mi sa Eh ma non è notte Non posso dormire Eh allora niente cibo fuori E quindi muoio E quindi muoio Come erano? In realtà non mi ricordo se muori o meno O tipo ha diritto una banca di serra No, mangiare ti serve tipo No, mangiare ti serve tipo Perché tipo dopo non preoccupa di più stamina E muori e Non posso più bagno a parte Esatto No No Tipo Hai buttato via la sua roba Sì No No, la sua roba no E qual'era la sua roba? È di modi Come che si chiama? In camera da letto ci sta una scatola Sopra Sopra Immobile Ok Salute Grazie Ah è vero eccolo Dove è ora di buttare E' un po' le pulizie Ci sono i po' le pulizie Ci sono i po' le pulizie Ci sono i po' le pulizie Secondo E' un po' le pulizie 在 tollo Ma e ci si è? Se qualcuno qua? Eh, vai fuori, vai in giardino E guarda il cielo Ma smetti di volarmi attorno Ti aggrediscono Ma non mi fanno niente Guarda che sorprende Scusa Torna a venta Cosa Cosa Butta il resto Butta il resto Ma dov'è il resto E dov'è il resto E' il scadrone che hai visto Ma sembra questo Entra dentro casa l'ucidio E cosa E questo qua non lo vuole buttare E non lo puoi buttare Tornerà sempre lì Comunque appena arriva la notte Tu stai dentro in casa Non uscire Oh mi stai seguendo Guarda 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 Chiudzi È finito tutto È finito tutto Eh No ti mancano Un bordello di mail Che hanno E dove sta quando dormi accanto al bagno tipo che svolava ancora il corpo di merda ma che devo fare più provare ad andare nel bagno c'è un'altra volta nel bagno aspetta è modo messa il fusibile ho paura di andare c'è almeno se ricordo corofo di merda non c'è in garage allora come mai abbaglia ma non lo so ma tu fratello che lo sto stuprando fammi capire dai fammi cagare di sotto sto aspettando ora si è fatto qua che succede nel bagno non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è ma non c'è non c'è ma non c'è ma non c'è si grazie spero un attimo spero un attimo che lei si possa aprire la nuova teori ma tu ti arrivi tu 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 non guarda il tuo fratello non c'è no 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 non mi apre più il gioco madonna che cazzo è fatto al club vabbè vabbè ah no ecco qua c'è vero c'è vero c'è vero del carro non farti niente non tocca f advanced porco borg borg aspetta notti adesso devi provare e aspetta qui avveni gioia gioia poi oh oh ok ma non viene più la notte ma infatti quanto fa è vero effettivamente è già la mezz'ora che non ti vedi più la notte è un altro buone amiche ma che era? io pensavo che era il gioco era quello il punto mi ha fatto cagare più questo che tutto il gioco fino ad ora oh che cazzo vuoi hai avuto la prima ti stai cagato sotto quando l'hai trovato quando l'ho trovato su e basta ma poi ti stiamo dicendo tutto fai una sola e poi dai eh ti sto provando non c'è niente ma e poi tra l'altro si è con me non c'è niente che cazzo ci sta succedendo non viene mai la notte i corpi si sono calmati ma ma hanno rotto il cazzo adesso eh ma chi? ma chi? ma chi? ma chi? ma chi? ma che cazzo è? eh quei due coglioni chi? ci c'è roba e ci c'è Tony c'è roba e ci c'è Tony c'è volta che entra porca madonna un band diretto proprio perché che è successo? parca non l'ho sentito il bot no il bot non hai sentito quel rumore dell'amore ah e no perché stavo con le gambe cuffie tutte le concentrate quindi non ho sentito dire ho spaccato due team non ho male più al botte lo tengo basso ma donna troia ma che è star male il cazzo ma più anch'io sti cugine per merda non va un cazzo qua eh c'è niente da fare mi chiede ma che cazzo hai fatto è buggato il gioco fammi capire prova ad andare prova a startare la campagna e dopo non posso tornare si perché appena starti la campagna fai la ok mi sentite? beh tipo c'è nel senso non da nuova missione vai nella nebbia ti starterà la campagna poi metti pause e fai the house che pare se devo fare tutto la capo no 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 fai tutto la capo stai tranquillo adesso fai provare l'ultima cosa allora ok non cambia più giorno è giorno da 5 giorni ho fatto 10 fps si è buggato il gioco quanto cazzo è pesante questo gioco eh è la nebbia è la prossima allora amiche ho capito devo farti giocare un altro gioco si se non fa paura cambio le impostazioni qua outlast si 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 ma chi è? niente stavo riprovando le vecchie cuffie per vedere un'altra cosa? mi sono cambiata mi sono seguiti ho fatto per saltare la campagna poi faccio dei auto cosa? guarda ma è più vai dire la media eh francee è fatto è saltato un coso che devo fare? eh? c'è tipo una scensura che fa verde e rosso eh devo fare di house ah devo entrare dimmi tu quando fare di house si si dopo il caricamento esco esci sempre ogni 3 secondi eh ho visto eh ho visto vabbè ha senso ha senso ha senso ha senso ha senso ha senso dopo il caricamento fai the house ok the house come faccio a controllare se stanno gli stessi cose? eh no è così perché tipo per forza perché tipo ogni caricamento che fa salva o salva ogni volta che tu dormi o che fai qualcosa qualsiasi sezione tu fai salva ok infatti ho 7 batterie ho 7 batterie e non ho controllato adesso tipo ci saranno di nuovo le cose nuove in cassetti ok adesso non ci dovrebbe sentire le cose eccetera si vabbè sta la sta la cassa qua fuori quindi significa che l'ho fatto ok quindi che devo fare ok vabbè la notte passa la in piedi nel senso che non andare a letto la notte rimani in casa ok adesso posso ascoltare l'audio questo è meglio guarda lì no no se perché posso cioè questo si fa ora certo ormai lo sai tutto nooo è arrivata un'altra posta ok altra posta ma se ci sarà solo la televisione uh se ci sarà solo la televisione guardala no l'ho spento la riaccendo e la guarda non succede niente bella sta televisione eh se tipo la guardi per un po' eh succede qualcosa no poi mi scocci di guardarla LOL da televisione di me c'è Tonio Cartonio porfodio stavo guardando qualcos'altro un attimo e poi tipo hai cliccato sul sul pianoforte coso riuscire a guardare entro dentro e si chiude tutto vabbè classico me c'ho qualcosa qua no e dove l'ha messo quel foglio l'ha trovato acqua domenica anche che mi rompe sto fuori dai il resto un peggio madonna si è aperto tutto una volta grazie mi sei mi ricorda la prima volta l'ho mangiato si è aperto tutto vabbè ok oh grazie come questo mi ha aperto facciamo un'altra canzone oh si è chiuso quella porta ora salgo sopra ed esce quella qua infatti è uscito infatti è uscito qua vado sopra che è sulla scheda niente questo jumpscare è brutto una volta che l'hai capito sta suonando ora rispondo e urla 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 ah niente oh ciao pronto pronto niente vabbè scusami che ha chiuso sto porta ma l'ho riaperta poi la porta che mi ha chiuso ho detto che deve stare aperto ok questo deve stare chiuso questo gioco non ha senso quale? quale? fatta è fissa due colpi di fucile a pompa da un metro e non è morto vabbè bello che lui era steso che devo guardare che devo guardare torna nella soffitta la e a sopra al po' su un gaspia aspera il cesto devo controllare come mai non viene il buio? alzafatto chi non ti fa dormire a te questa cosa è baggato che bello che bello che si prova a fare la campagna mi sa che tra l'altro tra un po' gli arriva il buio ma forse perché ho trovato qualche evento che devo finire ma non penso non la contro non la contro night is falling eh rimani sveglio non dormire ok qua me lo tengo con me e stai dentro casa non uscire devi stare dentro casa va bene accendiamo la televisione per cacarmi solo ecco bravo accendiamo tutto pure questo col pianoforte ma questo non è buio è la luce viola ma che è? perchè scusa tu quando sei la notte non hanno luce viola in casa? no che buio vivi spegniamo vabbè io mi chiedo qua dentro nel dubbio no ecco è buio adesso no? si è buio si si c'è la notte però non chiuderti no mi sono chiuso sto aspettando tu sei da niente chiudiamo quel ca chiudati forse di sicuro succede qualcosa sta nu- a parte i suoni di windows che sono i jumpscare ahahah ma che ti amo scare quella tu o no? what? demmene defuse ecco qua lo sapevo che succedeva figlio di troia ci ha provato a farmi salire su per un'altra volta e invece io te l'avevo preso no no me lo fai prendere? eh dai oh mi stavo chiamando ma urla questa per forza no non risponde vabbè scusa ora? aspetta è successo qualcosa amiche? no senti senti un rumore strano? si vai al piano di sopra 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 se andiamo a spegniamo la luce non lo so però non dormire non so dormire se mi vede allo specchio divento rossa ti metto questo forse la televisione ti facendo adesso vuoi fare un duetto? che vuole fare? è un duetto fatto Ah, forse l'elemento. No. Un duetico. Niente. Mi chiede se hai sfigato, però... Che suoni a fare tu? La Smith? Oh, mi ha buttato le sedi per terra. Non era la ponte. Che di droid? Eh dai. Vabbè, non riesco a dire che sta. Ma che cosa ti sentiva? Oh, i corvi! I corvi. Non ci sono. No, rimani dentro casa, non uscire. Ok. Ah! Infatti io li sento qua! Ah! 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 Vabbè basta, vado dormito. E' il reno. Ah! 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 Sulle, la ponte del decola. No. C'è qualcosa. Non lo so, non mi ricordo. Si, ma, Isera, c'è lì lì sopra. Vabbè, vai a controllare. No, non c'è niente. Vabbè, c'è niente. Vabbè! Sì, non c'è niente. Sento il rumore. Ma vabbè danno i due spettacoli ora. Sento un... Il telefono. Perché lo senti tu? No! Mi hai staccato. Lo senti pure tu? Ah, sti adesso si. Che palle. L'ho lasciato sul letto, eh? Qualcosa. Mi sono la volta. No, figlio di troppo. Che bello. Dove me l'ha messo adesso? Sento, bravo. Sì, che dici? The sun is rising. Che bello. C'è fatto mattina, yeee. È vero, The sun is rising. Lì c'è acceso il gas, what the fuck? Ma che cazzo vuole sto corvo? Controllo. Da, corvo. Non trovo il fusibile, l'avevo preso. Guarda il corvo. Mio fratello gli è successo il coso della tv. A lui sì. Ma perché a lui sì almeno? Che figata! Vabbè, però non si è preso paura, e anche lui. Non lo so perché, tipo, la prossima notte, farla di nuovo in piedi, non andare a dormire. La prossima notte dovrebbe succederti qualcosa davvero. Sì, ma io mi sono rossi il cazzo. Stai infortunato che non ti stai. Dove poteva stare il fusibile? Nel garage. Non c'è. O sopra il coso? Ho visto già, ma non c'è neanche là. Wow. L'avevo preso, però non mi ricordo dove l'ho messo. Dove il cazzo ne ha messo? No, ma l'avevo messo sul letto, però è scomparso. Forse qua l'ho messo. Che si guarda nello specchio e si vede, tipo, avvitato. Stavo provando a vedere come funziona. Oh, mi ha chiuso. Vabbè, cominciamo a togliere questo qua, Rutt. Grazie. Eh, non c'è. Eh, in garage forse. O nella stanza del giardino. Controllato. Madonna mi è apparsa davanti. Qua cazzo è brutto. Qua non c'è. Forse sotto al letto. Ah, eccola qua. L'ho fatta cadere sotto al letto. Sì. Ecco. Ho capito che è nella cantina. Ma siamo da qua, non ci passiamo mai da qua. Fium, fium. Sì, sì. Che è questo rumore? Non lo so. C'è un rumore. Non ho mai sentito. L'uccello ancora. Chi cerca di entrare? Non lo posso uscire. Oh. Non lo so. Che era poi il rumore? La televisione. Oh, la tifu ha acceso, ma c'è e guardala. No, no, non era. La spegni, per l'amor del cielo. Lo ha acceso io prima, l'ho lasciato acceso. Qualcuno mi ha spento il fuoco. Ma la accendo e la guardo. Il gas, è finito il gas. Vai, è finito il gas. Vediamo. Quando hai detto qualcuno mi ha spento il fuoco. Eh, sì, è finito il gas. Stiamo contro là. Oh. Che cazzo è successo? Che è successo? È uscita la tifu dal rubinetto. Ma ma questo... E non l'ha guardato? No, non l'ha guardato. No. Ma non c'era. E si perde le scene quelle che vedo. È certo, uno che continua a saltare perché lo meno è lento. Il gas comunque si trova lì, nel postino, nella cantina, mi fai. La cantina era. In teoria si l'hai trovato nella cantina, scusate. Ah, è un po' di acqua. Come beve. Oh, è un po' di acqua. Oh, è un po' di acqua. Ma beve, portiamolo dentro. Il cavolo lo vuoi buttare, scusate. Non so, metti le spazio due. Perché non guardo? Ma tu Outlast non l'hai mai giocato a lui diretti, Michele? Eh, però bisogna anche video. Hai visto qualche video? Ti ricordi le parti iniziali? Te le ricordi per caso? No. Ma te lo faccio scaricare, Asp. Ma c'è questo rumore? È vero? Che era successo qualcosa, ma? Non capisco cosa. Eh, ha sbattuto le serrande. Ma è presente che hai visto che c'è l'uccello che è tipo baggato che gira intorno a se stesso, tipo, lì, fuori alla finestra. Ho baggato tutto il gioco. Faccio una bella cosa, la prossima volta che vado a dormire, levo questo. Provo a fare quella scena, forse per questo non fa niente. Ah, il dreamcatcher, là. No, resta sveglio, resta sveglio, non lo ero più. Ok. No, vai in giro. Esplora. Chiudi le porte, di casa tu, vado a tutti. Vado? No, no, non succedi nulla se io... Chiudi anche lo scapuzzino, te lo consiglia? Cazzo, non è vero? Se io non usare più più, lo consiglio. Scusa tutto. Ecco, se era solo vedere i tuoi settimanieri, in camera tua? Ma non è necessariamente in camera, può andare anche nelle altre stanze della casa. Vabbè, ma poi vi nell'armaghetto e ti chiedi, tipo, bravo, dove hai chiuso prima? E accendi la vicina. Qua, devo chiudermi. Eh, prova un attimo. E aspetta. Fissa il bagno. Vai a rispondere, sì. E ritorno sopra. Ha urlato? No. Che cazzo ha fatto? Niente. Eh, ha fatto il suono vuoto. Vuoto. Mi è attaccato. Ciao, no, no. Oh, sono finiti tutti i suoni, ma succede qualcosa. Oh, no. Se non succede niente, è bust. Sto. E pallone. Spegni la luce dell'armaghetto lì, quello dietro dove sei tu. Ok, spero. Hot. Perché non provo a dormire, vedo che succeda nel sogno. Perché, tipo, se dormi... In teoria deve succedere qualcosa, ma... Eh, in teoria dovrebbe succedere qualcosa, quindi non dormire. No, non dormire. Non sto a dormire. Eh, ma non dormire. Cosa? Bon, c'è niente. Prova da... Prova a stare sopra il vento e poi riscendi senza riaprire le porte, rimaniti. No, si bugga Master e esce fuori dalle porte, tipo. Ah, allora. Beh, ho fatto già. Prova a stare sopra il carione. E lo pensa, allora. Pianoport. Eh, per cui pari qui. Il PC. Su. Fuori la casa, controllo. No, fuori no. Non mi spiega, non mi spiega, non mi spiega, non mi spiega. La TV si può accendere, mi spiega, non mi spiega. Lo faccio io. Non mi spiega, non mi spiega. ma non è succedere niente ma dove? ma dove ho sentito pum? a non toccare ma dormo sei sicuro dani che sulla parte prima riesce? eh? sei sicuro che nella parte prima riesce? in che senso nella parte prima riesce cioè? eh tipo che non devi fare il prologo? si si no non deve fare il prologo esce esce troppo tardi ma perchè ha dormito? perchè mi aveva rotto il cazzo tanto ormai era mattina un'altra volta voglio vedere come si fa qua nel frattempo ti cerco Outlast vabbè dopo comunque appena hai finito quei sogni stampa la campagna la campagna è bella ma uno che cos'è? che devo fare qua? eh sono dei fatti ieri mi vado di mai fatti i danni sto sproposto eh siamo fatto il primo ma è più complicato rispetto al prologo i sogni qua ma che non pare che cazzotti ma sono dei fatti i che sono i fatti i fatti che sono dei fatti i fatti? eh sono tipo dei puzzle per risolvere eh ma io non li vedo neanche i puzzle quella cosa tipo ci stanno i cosi ci stanno dei labirinti ci stanno dei cose dovevi scrivere le robe bla 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 nel frattempo dato che stai giocando, prova a scaricare ora, il media file è dovuto andare provo, provo ah, è del torre vado 1 vediamo che succede qua 1 col sangue per sé però se vado sotto non si può andare e poi ti devi scaricare la faccia questo tenasiti cioè è meglio che ti trovo un tono è meglio, non scaricarlo allora, riparti che cosi Sì, sì. Sì, sì. Oh, ce l'ho fatta. Che cazzo l'ho fatta? Non lo so, sono arrivato a un furgone. So, where are we taking him? To a good friend of mine. Eh, vedi, bravo, Miguel, bravo. No, 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 why are you so short? Eh, ti fa capire bene la storia del gioco, ma... Eh, sono importanti questi pezzi. I don't expect him to protect him for the rest of his life. I expect him to teach him how to protect himself, make a survivor out of him. Bumumumum. Bumumum. 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 Bumumumum. Benjiad, sì. Oh, cazzo. Se si è aperto vuol dire che si deve entrare dentro. Si si è aperto. LOL. Si, devi entrare dentro l'armadio. Ma chi è questo? È il tuo senso di colpa, è tilt Tilt LOL Mi ricordavo che un roll Mi ha visto Eccolo qua, eccolo qua Guardalo Guardalo Vediamo questo qua che è Che cazzo era Questo qua era malato Questo qua che ha fatto il gioco Quello è corridor Eh, vogliamo guardarli Cryo figure Quella era ancora più malato Madonna mi ha fatto cagare sotto Cioè la cosa che mi fa cagare sotto È lo specchio Che cagare si fanno col riflesso Anche io Non me l'ho spettato Ma che te vuoi? Guarda dietro tipo C'è una porta dietro di te Se guardi lo specchio c'è una porta E' infatti è così Bravo master Sono un genio Eh Ma non c'è una pa Nooo Che genio 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 Vabbè pure è ovvio come funziona che cagate si vedesse qualcosa almeno un'altra volta il furgone hai fissato questo furgone mi piacciono i furgoni il suo friend ormai non so se nessuno è meglio di lui ma di ciò che fa la parte di ciò che fa è fuori si tratta questo è proprio lo che necessitiamo proprio ora ma è quello che ho dietro alla stanza che è però sono questi quasi aperti quindi ma urla di sicuro sono tornato? no, non è tornato di nuovo uno, due sono di nuovo? no dove è il tre? tre, eccolo qua comunque trovo come ne devo andare va bene ti do il download nel frattempo, lascia scaricare scarica te l'ho dato su Discord con il zip share ti è il file autore, tu lo apri e scarica ma anche veloce, sto scaricando a 4 mega e 2 sto cadendo come sto? bocata all'infinito devi schivare le luci ah, è vero, no? di culo ma come si schivano? non le devo guardare non mi posso muovere, scusa eh sì che ti puoi muovere è come se stai facendo surf tipo e non si muove, guarda guarda come non si muove guardate come si muove mi metto vicino al muro allora ok, no, sì, si muove comunque si muove, si muove di... muovo surf di qua, esatto oh cazzo oh der what the fuck, ti sei incastato pel muro, what? a what walter luci sono oh ah dai ah 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 utyoh oh oddio 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 ma dove di andare mare di mestru ma c'è un altro furgone ma chi è questo cazzo sta foto ho più paura questa foto qua ma che è ma che foto ma quali foto non si è vista la cosa di stupendo no no for the best prepare for the worst dal furgone perché il furgone dove hanno trombato ti manca l'ultima volta sono quattro in teoria ecco la quarta adesso ti esce il tizio che urla mare adesso non culo io spero di poter vincere il volo per il volo in un uomo che lo so che ti diventa io spero di poter vincere per vedere cosa potrebbe essere oh cazzo è tutto buono ma già mi stavo parlando di nuove quattro no ecco da clientezza che è successo stavo parlando quattro niente più fare gli highlights e ora che devo fare sta a parte non l'hai mai fatto vero Dani no io sogno non l'ho mai fatto sempre divertito nella casa eh zicca gali sotto ecco perché no ho fatto sempre voleva Michele che li faceva porco di un iso cagato sotto dio cane con lo specchio porca madonna ma che cazzo ah ma puoi raccoglierlo ma che è si Michele Michele ti serve si me ne so accorto ti serve per guardare ah eh si per il pozzo Michele ti serve per lo specchio perché ti riguarderà alle spalle eh si perci devi camminare al contrario ma che cazzo devi camminare al contrario Michele devi girare lo specchio girati con lo specchio loco per vedere un attimo dove il percorso bello e così ti dice dove si trova dal tuo punto eh ma non va girati girati vieni un po' vedi è dietro gli te c'è tipo eh eccolo e io devi saltare l'acqua ecco e ora e niente, segui per questo ma io dove sto giù? ah, bello, bello ah, lo ho le scale, ecco, vedi, loo, che figata fatto bene comunque, cazzo, sto... oddio si vede un cazzo, mo si vede un cazzo, mo quindi riempite le persiane, un brugneggio no, non è qua è qua sto andando indietro adesso, mi sono perso mi sono perso no eh no, d'altra parte che scendevi devo scendere io tu, ylde lio la lio lio migra lio eh sto Non ti preoccupi, non ci sarò più lungo. Solo faccio l'introduzione e chiede l'exercito. Quindi stiamo perdendo qui? Sì, credo che io credo a Franck con la vita. Credo a Franck con la vita di Jake. Questo è quello di fare, anche se è la cosa più dolorosa che dovrò fare. Doc? Mi sono uscito. Oh, Franck, per favore, prendi bene il mio figlio. È il mio figlio. Tu non mi hai mai detto che mi hai mai detto che il mio figlio è il mio figlio. È perché non lo so. Non più. Ma devo andare in fondo, per favore. Questa è la stessa, perché? Ah? Quasi solo, scusate. Quattro. Non. Adesso questa porta si può aprire, per forza. Tre, quattro. No, non è vero. Anche tu? No. Questo qua sta... Che è la sua morte? Oh, cazzo, sta venendo, sta venendo! Ecco la, ecco la! Sta venendo, Michele, no! Eccolo, lo sento! Eccolo! 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 Eccolo va! Eccolo va! Ma cazzo, mi sta urlando addosso! Corri, corri, corri! Eccolo! Eccolo va! No, Michele! Scappa presto! Oh, no! Ok, ho fatto! Eh, qua. non è scomparire qua non c'è niente provare ad aprire la porta principale di nuovo forse si è vero no, non va oh, i stiti non c'è niente oh, forse devi svegliarti, hai finito poi provo eh, provo eh, provo ok ok, no no, 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 no bad, bad what ok ok, io spengo scaricati coso outlast è lo zip share l'ultimo, gli altri non li aspetta, mettiamo sempre alla fine sono bello più sono bello nuova sono bello chiudo lo stream spuno bello 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 bu Grazie.